Sì, c'è un progetto. Buongiorno a tutti. Hanno preso delle sti... c'era questa panchettina qua e le altre tutte le grazie purtroppo. Ciao, ciao Marco, tutto bene? Ciao, bene, voi? Tutto bene, grazie. Mi raccomando, c'è una ripresa, eh? E' un po' di inglese. Fai la brava, io sto qua in giro. Tienile la mano. Bravo, 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 bravo. E' un po' di inglese. Eh, lo so, è stato un mese e mezzo a Cardiff io. Ah, ma c'era un po' di inglese. Guarda il mio cuore, è stato un po' di inglese. Qual è? Ma c'hai il tuo? Grazie. E qua le batterie. Sì, la batteria. Vuoi vengono anche tu? Ti sai? Sì. Posto a destra. Posto a destra. Perfetto. Guarda che bella. Basta? Bene, va bene, va bene, va bene, va bene. No, basta. È giusto, è giusto, dai. Pulisci l'ha portato di mano, vai, posto. Invece la volta scorsa, 4-1 contro Dio Nesta. Sì, immaginavo è fatto bene. Inizio, poi si mette il video qui. E da termini è stato squalificato. Sì, una giornata. Con somma di ammunizioni, niente di grado. Il pane verrà operato all'aprile. E praticamente no, solo qualche partita all'inizio. Il nostro allenatore non c'è, questo là qui. Sì, perfetto, sì. Va bene, va bene. Dai, leva la condizione! Dai, vale! Dai, vale! Dai, vale la testa! Sì, sì. Ha fatto rigore! Sì, ma gli amici diciamo che dov'è un'informazione. Informazione di noi. Perché tutte le volte che le ho vincito, non c'era la laurea e poi ce l'ho trovata. Penso di sì. Mi sono riusciti a dire molto calcistico. Anche la mia schia non ci va molto. Va bene ragazzi, dai! Guardiamo! Guardiamo! Sì, sì! Sì, bravo! Guarda, stiamo andando. Sai, 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 sai! Facciamo la prossima! Sì, sì! Esatto, bravo! Non male! Sì, sì! C'è, fai play-out o c'è qualcosa? Sto a mangiarci. No, no, guarda, non ti preoccupare. Lei sbagliato. Sto a mangiarci. Siamo in posizione. Bravo, vai! Sto a mangiarci. Non c'è un figlio di più. Non la guarda. Due a due. Perché ne ho poco. Bravo! Grazie! Hai visto che bel posto qua? C'è anche tutti i nostri amici. Però andiamo a punto. Bravo! Sveglia! Vico! Buona laura, lo faccio per te. Pancetta! Aspetta, aspetta. Concentriamo. Sto bene, eh? Al fine primo tempo. Al fine primo tempo quando andiamo al bar. Comunque vince quando cerchiamo e lo fanno. Basta, adesso. Sto facendo la primavera del migliacca. Sì. Così quasi, da forza. Al fine primo tempo godo. Puntalo, vale! Puntalo, vale! Puntalo, vale! Puntalo, te ne vai! Vai, vai! 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 Quinto è interista. Grande! Bravo! Lo so. Lo so. Anche Laura è interista, no? Certo, cazzo. Eh, che domanda. Ti hanno tirato insieme. Sì? Sì, sì. Eh, sì, no? Dopo dopo dopo. Adesso, a prima tempo giochiamo. Dopo giochi con me. Comunque ieri con la Roma, cazzo, va bene che il risultato giusto era il pareggio. Vilarci con la centrale! ろ, tratti! È un loco, frisita! Scherz! Ah, bro, braaamoo! Eh, won't bow gear all the bra? Vieni, come? Sì, sì, sì. Se la senti? guarda questo? Si, se la sente! No, è buono. Oh, tre lapsi, tre lapsi! Forma, tre lapsi! No, va be', a me non stiamo cercare. sono malissimi. Poi poi inizia. Poi sono sempre 10. Sono ultimi, poi non sono 10. Non lo so, non credo sempre a seconda categoria. Eh, ci manca. No, no, non è bella vista una posizione. Bravo, Luca. La Tertelli è braviglino. Eh, esatto. Non è fede ma. Anche io mi sono aperto. Questa giacquina è pesante. Iniziate la partita eh. Di dietro anche. Allora, metti. Bravo, bravo. Io, io, dammi, dammi. No, no, quello che batte, quello che batte. C'è, c'è. Non ce l'ho io. Grazie. Bravo. Bravo. Sì. Sì, veramente non è venuto qua. a lungo. Non è facile. E dai, 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 siamo su. C'è il passo dietro tu, eh, bravo. No, è una passata alla terrestre. Che dice, no, bene se. Ok, bene. Guarda, dai. Non lo so. No, no, non lo so. Non lo so. Non lo so, no, non lo so. Il secondo allenatore diciamo, poi allenato questo. Dopo Pasqua le prendiamo le ultime 5. Le ultime 5, questa qua è la sesta, le ultime 7. Almeno si riesce a salvarsi. Si, bravo. Mi pare almeno 6 punti. Bravo, 6 punti. Almeno adesso. 7, 7 mi pare. Bravo Luca! Bravo Luca! E' esatto, speriamo anche per noi. Allora... Concentrati, stiamo durando bene, continuiamo. Bravi, bravi, dai! Sì, va bene. Dopo, dopo la vuole. Vai Dito, vai Dito! Vai Dito, vai Dito! Vai Dito! Oh sì, la Dito! Oh, oh! Vede! Vede! Urla! Oh, io ci abbranziamo qua. No, domani andiamo a scuola perché abbranziamo. No, domani andiamo a scuola perché abbranziamo. Scusate! Oh, vede! Scusate! Ale, ci devo mettere bene! Sono troppo disordinati! Abre! Cosa? A lui? Hai giocato un po' a calcio ancora o no? Io ho giocato ieri e mi sono portato a calcio. Non certo se viene tanto. Non lo passano. Siccome non c'è tutto il disco, io vorrei non giocare. Perché l'anno prossimo non viene confermato il disco? Spero di no. È tanti anni che è lì, no? Forse sale quello da me. No, può d'appo al fine del primo tempo giocare. Andiamo a mangiare qualcosina là al baretto. Sì, se non lo smontano. No, ma credo che resta ancora... No, stai diventando. Ma veramente? No, forse mangiarlo, però magari... Non vuole che chiude solo... Eh beh, si chiude, non è. Cazzo, c'è la primavera del Milan, qua c'è un bar aperto. Comunque è enorme. Al posto! Qual è? Si vede che c'è un soldi. Dai, dai, dai! Stagliamo! 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 Bravo, Teo! Bravo, Luca! Buona idea! Bravo, buona idea! Bravo, buona idea! Il punto della Madonna. Poi c'è quello lì. Che non c'è una lì. Bravo, bravo, Teo! Bravo, va bene! Il nostro pezzo non so com'è. Dai, Luca! Non c'è un po' la mano. 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 Anche se non c'è un po' la mia squadra mi vedete che i soldi da stare all'Inter che te ne prendo un sacco di soldi. Guarda, io mi metto a correre vivo a Juve. Sì, è proprio una roba, contro natura questo. Esatto. Comunque come ho giocato in questo passaggio. Dai così! Anch'io, anch'io. Anche se avevo giocato... E mi è spiaciuto che anche il gol fosse regolare, perché se prendo il gol a 91, ma anche in fuorigioco, dovevo ancora giù il passaggio. Io. Non mi è sempre più senza passaggio. Lui di là. Uncora tu! Dai, 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 dai! Ho capito? Ho capito? Ho capito? Ho capito? Ho capito? Dio, io ho capito. Dai, c'è un quarto. � E' più? Ud, bu. Andiamo l'uji con la livezza! ma non è che non ti ha giocato si, no, non è l'ultimo l'ultima mezz'ora bravo va bene non aspetta eccolo, vai, vai non ci credo ma no ci tengo la palla che c***o che c'è va bene, la prossima andrà meglio Giro bene, va bene 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 che c***o bravo 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 siamo fermi eh bravo fermalo davide stiamo sveglia non la sveglia ho sveglia e Siamo lì, stiamo lì. Muz! Lato! Muz! Lato! Dove vai? Aspetta, stai subito qua. Dopo andiamo a passare. Stai subito qua. Muz! Anche il cambio là! Da una parte e l'altra! La cagnola, la banchierina era. Di vicino alla banchierina! Dai, torna indietro, Muz! Dai, Muz! Evita queste cose! Dai, dico, dai! Accorcia un po', sulla linea! Davide, sulla linea di centro tappo, accorcia! Accorcia! Alza, alza, piani! Corre, corre! Dai, dai, un po'. Tocca! Gioco veloce! Dai, ragazzi, a parte! Mano, uomo! Pesa! Un'altra, 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 un'altra. Forza storia! Venga, un passetto di troppo! Ici, ici! 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 Ici, è enorme! Facci di là! Ici! Andiamo dall'altra parte di là! Sempre io! Guarda! Hai la mia banchetta? Allora! Ti piace! Non, 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 non! Dai, messo! Stanno dietro! Le galle! Va bene lo stesso, va bene Sara! Te lo rischi, va bene così! Non è un pezzo, eh! Vale, vale! Bene, 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 bene! Scusa! Non è un pezzo! Non è una pezzo! Non è un pezzo! Sì, Luca, sei solo? Allora, vedete che... Alzati, Luca! Ok, vieni! Aspetta, vai saltare! Attenzione! Via, via! Falla uscire e poi rimettere. Troppo! Troppo! A te! Fermati più vicino al dito! Troppo! Troppo! C'era un 20 gradi! Sì, sì, la macchina andava a 20 gradi. Poi qua che siamo fermi al sole... Luca! Non perderti in quelle cose erano! Dai! No, così, dai! Meno male! Andiamo lunghi! Andiamo lunghi! Andiamo lunghi! Andiamo lunghi! Dai! Andiamo lunghi! Come arriva! Presa, presa! Presa, presa! Presa, presa, presa! Dai, Ciro! Dai, persa lì! Si, Calle! Bravo, Calle! Sei bello? Sì, sì! Sì! Male, ma c'è lì! C'è lì! C'è col trasciolo! C'è lì! C'è lì! Ci vale! Ci vale, ci vale! Alè, non vogliono! Dai, 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 dai! C'è lì! Oh, tu! Noi in giro! Dappo, dappo giochiamo! Noi in giro, Ros. Oh! Oh! Leone, portiamo meno palla! Ciochiamo più una squadra! Ultiamo con la testa, Boetsch, Ulti la testa! Noi in giro Can Awesome! Noi in giro Can Basic! ...dai uno sguardo... Via! Vai, vai, vai! Si, Luca! Si, Luca vola! Vedessi, Magni! Va bene, va bene, va bene! Brate, 10-10 avanti! Tutti siamo vicini! Dai! Dai, lui! Sì! Almeno fare giallo! Andiamo a fare giallo! Andiamo a fare giallo! Bravo! Viva! Viva! Dentro, dentro! Oh! Oh! Dai, Gilles! Presa, presa! Bravo, Gilles! Molto bene! Siate, siate! Andiamo, 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 andiamo! Bravo, Gilles! Giacca! Giacca! Basta, presa! Bravo, Gilles! Bravo, Gilles! Ancora! Presa, presa! Molto bene! Presa, presa! Bravo, bravo! Tira! Va bene, bravi! Sali, sali! Locano troppo tu! Locano troppo tu! Uomo è il cuore, bello! Uomo! Compaia, compaia! Vamo arriva! Così, controllo è via! Testa alta! Porca tra... Mi insieme che stiamo giocando a molli, vedi? Sto dormendo! Sono le classi, infatti io dico, queste sono le ultime classi... Ma stavano meno! Magari giocate, fate due gole e poi giocate tre! C'è, perché poi secondo me nell'intervallo... Dai in giro! Dai in giro, Lu! Luigi dall'altra parte! Ma stai in giro adesso! Dai, gira, gira! Gira a voi! Basta! Adesso vado in piegherà! Guarda lei! Gira! 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 Oh! Finalmente, Leone! Finalmente! Basta, basta! Di qua! Giusto! Giusto! Preso la riga! Controlli i pezzi! Vai! Spingi! Vai! Spingi! Raga, una mano amico e una due! Ciao, ciao! Gira! Bravo! Ciao Luca! Oh! Oh! Oh, guardi! Oh! Oh! Zanio! Oh! Che man Zanio? Che chiamiamo? Dai, doppio. Sali, sali! Asso, lo chiamiamo già! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.